Bella a tutti ragazzi, ben donati da appena 89, oggi sono su fortnet Dai La fattoria Dai ok 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 Grazie a tutti Grazie 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 Con una cosa spezzata per voi Grazie 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 a tutti. Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Noi! Un'altra volta. Noi! Perfetto Oh Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.